Un'altra brutta sorpresa per gli italiani che rientrano dalle ferie. La spesa per la scuola che quest'anno registrerà aumenti consistenti seguendo la scia dell'aumento complessivo dei prezzi. I meno accorti al portafoglio potranno spendere anche oltre 1.300 euro per dotare i figli di uno zainetto con la griff dell'influencer di turno, ma non andrà bene anche a chi invece i soldi li tiene sott'occhio. Solo per i libri e corredo la spesa sarà di oltre 1.000 euro. I listini del comparto scolastico, spiega Assutenti, sono in forte rialzo per tutti i prodotti. Al punto che solo per il corredo una famiglia deve mettere in conto una maggiore spesa attorno al più 10% rispetto allo scorso anno, con un esborso che per il materiale completo per l'intero anno si aggira tra i 500 e i 600 euro a studente. Sui siti specializzati uno zaino di marca supera con facilità i 200 euro, fino ad arrivare a casi limiti dove uno zainetto trolley con portapranza viene venduto alla cifra record di 1.321 euro. Costosissimi anche gli astucci griffati che su web vengono venduti con prezzi che possono arrivare a 300 euro, meno costosi i diari i cui listini raggiungono sui siti specializzati il tetto di 50 euro.